Ok, nello scorso episodio avevo un ucciso kit, se ve lo ricordate, sono rimasto vestito, ma vedi un po' a questa penta qua che si è rivestita Pampai mi ha prestato... mi ha prestato le sue armi Falsa testimonianza Cosa c'è? Dispositivo lancio di onde d'urto di kit Ok, quindi quest'arma si chiama dispositivo di lancio di onde d'urto di kit KitKate abbiamo ucciso l'altra volta, mi ricordi, ti ricordi Pam Pam? E' quello che abbiamo già ucciso l'altra volta E adesso non l'abbiamo per niente ucciso perché quando uccidiamo dei boss ci rimangono le armi Ce ne andiamo con l'elicottero? Però la guidi tu, ok? Guidi tu l'elicottero Ma che ci dobbiamo fare? Stiamo vicini Vabbè, non c'è nulla Per scappare da qui Papapini! Io ho bisogno di spaccare questo, infatti Io non la mi sono indietro Cosa? What? Ah! Sei bugato di nuovo, sei glitchato Ok, andiamo! Niente! Ho fatto la mossa Non ho fatto niente, ho fatto solo una mossa! Penelite! Piccoline! Che ci sono! E un penelite! Molte! E una bananita! E una bananita! E un penelite! E un penelite! Ma adesso questo penelite! E risiedi a me niente! Sì! Passa per le motoscafo! Motoscafo sono... Un penelite che... Perché hai pelotos? questo è un'arma viola e no è la jump quella dove si salva no le gombe questa è la tua cassa papà ho sentito qualcoso l'hai sentito anche tu scusa non hai sentito quel botto io non credo proprio che c'aveva delle granate mi piace questo glitch di poi salti e poi a terra con la capriola l'hai visto? dai dobbiamo andarcene dobbiamo andare in safe andiamo la safe andiamo in c dove sto andando? fai un balletto 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 ma noi non andiamo ho sbagliato cosa ho sbagliato noi andiamo a questo commercio sono molto intelligenti noi non c'è l'unico noi non ci ritorniamo perché vogliono vendicare ci vogliono vendicare la sifera qui ma c'è i colpi dei lanciarazzi guarda l'inventario no l'inventario no peccato perché c'è 5 di colpi se qualcuno c'è il colpi dei lanciarazzi mi raccomando dammeli a me perché io c'è quello che è tipo lanciarazzi però tutta a po posto tutta a posto tutta a posto stanno già a spazio sei tu ok ci facciamo un riposino qua aiuto facciamo un riposino qui notte questo qui il giorno dopo la mattina dove stai fissando tu ieri non ho chiuso non è semplice 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 anzi che abbiamo qui sento l'aria di qualcuno perché camini piano non è semplice non c'è un bacchino non c'è un bacchino non c'è un bacchino è la roba un bacchino eh sai quanti ne mancano? sai quanti ne mancano? 8 8 vedi tu? 9 ne mancano sete ne mancano 9 10 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 16 19 21 22 23 23 24 25 25 25 25 22 26 28 25 26 25 25 25 27 28 29 29 29 c'è nessuno ho visto qualcuno sono agitato è attirato si sta attirando attirato all'attacco è attirato ci vado no se ne mancano ora io guardo io guardare spalle i io guardo le spalle tu guardi lì ok no attento attento si ne mancano attenzione io riparo riparo mancano sei non ho visto malissimo non era un mamma mia che ansias ne mancano già si vado a prendere qua lo dai io ti dico qua se lo vuoi andare a prendere se no resta ok guardami bene arriva 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 dove sta ne mancano cinque si però ne mancano cinque sei rimasto ancora travestito pampani mancano cinque ufficiale pampani mancano cinque controllo dietro non c'è nessuno al momento aspetta non dire parolacce mi raccomando riparo lì dentro mi ha tolto parecchio non con 4 se c'è la medicina cosa c'hai c'ho questi vieni qua si andiamo 3 andiamo ok però ne mancano 3 intanto non va bene dove stavamo prima non va bene no dentro casa dentro casa spettacolo l'hai visto ho paura ho paura di pantacontro uno deficiente controllo dietro controllo dietro io controllo dietro controllo lì controllo lì controllo controllo come cacchio è morto quell'altro please controllo dai l'ansia momento del cellulare è il momento della guerra finale ho paura sistemi questo l'ho visto non ci credo no sto arrivando Sì!